Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, 3 km di coda per incidente tra Incisa Reggello e Firenze Sud verso Firenze. Per traffico intenso sulla viabilità ordinaria troviamo inoltre code in uscita a Valdarno nelle due direzioni. Per traffico code in uscita a Calenzano e a Firenze Scandicci nelle due direzioni. Rallentamenti verso nord tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci e in carreggiata opposta tra Bivio 1 a 11 e Firenze Scandicci. Per lavori inoltre a 1 km di coda tra Valdarno e Arezzo. Sulle Firenze Mare code per traffico verso Firenze tra Pistoia e Bivio 11 a 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. In Fipili restano code a tratti per traffico tra la Strasigna e Firenze Scandicci verso Firenze. In carreggiata opposta code a tratti ancora una volta per traffico tra Cascina e Pisa Nord-Est. Troviamo inoltre coda in uscita a Pisa Nord-Est per chi proviene da SGC Firenze-Livorno. A Firenze restano forti rallentamenti sulle principali direttrici in ingresso città, in particolare sulla direttrice Porta al Prato, Fortezza, Piazza della Libertà, Via Dotta all'Indiano, Zona di Novoli, Via Bolognese, Coverciano e Via Senese. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!